ma ciao ho notato una cosa siamo arrivati a 100 le tre cifre sono molto contenta e tra poco uscirà anche lo speciale 100 iscritti e basta fare così che se no mi faccio male al polso allora benvenuti a tutti ragazzi in questo nuovo video oggi nascondino insieme ad Aldo saluta Aldo e oggi usiamo due telecamere My Mobile Phone e quello di Aldo praticamente funziona come fanno tutti solo che io lo prendo come una cosa speciale perché non l'ho mai fatto regista prima lui, poi spegne, poi registo io e tutto questo anguino dice tutto su questo video come dice il mio amico nascondermi, hai iniziato a contare oddio un telefono nascondiglio dove cazzo mi nascondo boh qua dietro una cosa easy solo che è un tetto e mi devo arrampicare ok sono sul tetto ma lo sfascio oltre la torcia mi avvicino ho appena finito di contare i sogni e adesso vado a andare a cercare tiziana e intanto ci dobbiamo sginezzare andiamo a cercare questo maledetto tiziana allora qua vedete l'atmosfera bellissima del lido frangillo se vi trovate in zona forno passateci perché le pizze, la qualità di questo lido è ottima scavalchiamo qua e adesso e iniziamo a scondiglio andiamo per fare tiziana andiamo ci sono persone che forse taglierono i video taglierono i video però ci sono 15 minuti insieme però ci sono 15 minuti insieme e io non mi ricordo se tiziana fa questo video di questo file dove c'è nel senso se hanno impostato video di cui parlavano che parlavano di una scantina e io non mi ricordo se tiziana fa questo video però io so che il mio amico tiziana ha un gran talento nel nascondere e non so la cosa che trovi qui ma intanto ci sono delle persone che fanno guarda questo bel alto guarda questo bel alto ho perso l'altro forse mi ha fatto 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 cosa che posso fare e il bastardo che si dirige è bello che bello ho finito sai che devi contare tu? no eh si è vero perché non vale salve tutti comunque poi ho fatto un dove ero? in realtà in realtà non ero ero andato un po' in giro poi sono tornato e ti ho visto la come un pollo e ti ho aggirato proprio mentre dicevo proprio mentre dicevo adesso iniziamo a cercare mi hai sentito che ho detto bello alto si quando praticamente io ero andato fino in giù al corritorio delle cabine si ovviamente fanno delle pizze ottime veniteci tutti qui a Lido Frungillo se siete in zona Formia ovviamente in realtà se siete in zona sud Lazio perché ricordiamo per le persone che non sanno dove si dove si trova Formia Formia si trova precisamente a due ore da Roma e a un'ora da Napoli però questo qua non vuol dire niente è vicino al Garigliano accanto al Garigliano stiamo dopo stiamo accanto a Scauri ragazzi eh si l'hai fatto vediamo un compleanno in corso vai a vedere Gaeta cioè se non conosci Gaeta hai qualche problema voglio vedere documentari video di tutto su Gaeta ecco dove siamo l'amore andiamo al mare l'amore questo posto è la storia d'Italia se non ci venite vissuti se fai così mi scrivono sui commenti che ti vengono ad insultare te lo dico eh insultatelo ragazzi ovviamente io sto scherzando non sei un cretino certo che lo sei vabbè me lo aspetta però io passiamo a ben altro scrivete nei commenti scrivete però nei commenti che squadra ti fate perché lì vi giudico io no aspetta non più che altro aspetta fammi inquadrami scrivete nei commenti dov'è che andate al mare cioè vogliamo sapere noi dei posti belli dove sta nel mare capito e arriviamo all'eleno per questo video a 10 like ecco si minchia Gesù Cristo però io volevo dire un'altra cosa e ecco oltre scrivete nei commenti eh cosa è cambiato cioè perché praticamente sento la mia voce che è cambiata in me scrivetemi nei commenti se la mia voce era diversa all'inizio perché alla tua aldo non è variata di tanto scrivete se la nostra voce più che altro è variata di tanto eh beh caro sono passati 4 minuti e 40 secondi dalla video termina qui eh è stato molto bello questo nascondino minion eh ovviamente continuate ad iscrivervi al canale perché siamo a 100 e mi sono molto felice di questo il posto è questo il frangelo è bellissimo è un lito più che altro una volta al ristorante eh quindi iscrivetevi al canale spolliciate attivate la campanellina ci vediamo in un prossimo video bella raga